Guarda che mi fai mangiare. Ma che sta pensando? La linea mo'? No, poi ti lamenti che non sto dietro a quelli che scappano. Ma che stai pensando ancora a Teresa? Dal primo giorno che l'hai incontrato ho capito che quella ragazza per te era speciale. È speciale. Lei ha quella parte di me che... che mi manca. A volte desideriamo tanto una cosa che ci sfugge, no? Lottiamo tanto per averla, ma ci sfugge ugualmente. Bella fregatura la vita. Non pensi di essere troppo giovane per un bilancio così negativo? È che vogliamo parlare della mia famiglia. Non lo so, vogliamo parlare di mio padre o di mio fratello. È che io pensavo che io e lei fossimo perfetti insieme. Invece no. E l'ho persa per sempre. E per sempre? Ma mica esiste solo Teresa? Puoi sempre contare sul fascino della divisa, no? Oh, ma mo' mica ti aspetti che ti abbraccio. Perché no? No. Perché non è un po' nase. Ma questa leccola è un po' nase. È di me. E per questo c'era il miokgio. Io ti abbraccio. È un po' nase. E io lo so. E io gli ho cantano. Ed ho gli ho non sono Andi da un po' nase. Grazie a tutti.